Siamo con Dedo, reduce dal rally di Roma su sei prove disputate, quattro primi posti e due secondi posti, qual è il bilancio da questo evento? Per me è stata una grandissima soddisfazione, era una gara che in passato avevo già vinto due volte, però erano passati dieci anni, quindi tornare su quelle strade o su strade simili di quel territorio che per noi di questo sport è forse la gara più importante che c'è in Italia, è stato un bellissimo palcoscenico e guidavo per la prima volta l'ultimo modello di Skoda che è la macchina in questo momento tra le migliori in assoluto e siamo stati sinceramente sempre molto veloci, quindi sono stato molto contento di tutto e mi sono divertito molto, devo dire. Passano gli anni e le macchine diventano davvero degli aerei ed è molto complesso riuscirci a trovare i feeling da subito, ma soprattutto sfruttarle per bene. Abbiamo fatto particolarmente bene la terza prova in notturna e lì ho preso un bel distacco rispetto agli altri, quindi dopo è stato un po' più facile gestire il fatto che la strada era molto molto sporca, quindi mi tenevo del margine. Ecco, successo, arrivato ancora con il navigatore Massimo Daddoveri, quanto è importante la sua figura e la sua presenza? Allora, devo dire che Massimo è stato il mio navigatore per diversi anni, poi lui ha smesso di correre, devo dire che mi sono trovato bene anche con gli altri, con lui però è una magia diversa, io ho insistito molto per farlo tornare alle gare e ci è tornato praticamente a metà di quest'anno, quindi siamo alla seconda gara insieme, però sembra che dieci anni non sono neanche passati e abbiamo ritrovato subito quella empatia che rende tutto magico. Cosa riserva il futuro per Dedo e la sua macchina? Io sono diventato costruttore di una categoria di vetture che si chiamano N5 e quindi sono passato diciamo dal ruolo di pilota a quello di costruttore barra imprenditore. Adesso sto facendo proprio un cambio di passo, è una cosa per me molto difficile da fare a superarti i 50 anni perché devi rimetterti un po' in gioco eccetera, però è anche molto stimolante. Io adesso in programma di fare qualche altra gara con questa macchina e poi in autunno sarà pronta la macchina nuova che abbiamo costruito noi e lì sarà bello salire anche su quella che per noi sono 5-4 anni che ci stiamo lavorando quindi è veramente un traguardo importantissimo e anche molto stimolante. Grazie.